Numeri crescenti e regolamenti precisi. La questura di Pesaro Urbino ha fatto oggi il punto su quella che è l'attuale portata e la gestione sul nostro territorio del flusso migratorio ucraino obbligato dai drammatici eventi bellici. Ad oggi sono presenti ufficialmente, dato ufficiale appunto, e sono 654 nella provincia di Pesaro. La maggior parte nelle due città di Pesaro naturalmente e Fano, circa i due terzi sono presenti in questo territorio. Sono soprattutto donne e bambini, minorenni, sapete benissimo che gli uomini non possono uscire dall'Ucraina per la guerra, quindi soltanto le donne e questi bambini possono arrivare in questo territorio. I numeri stanno aumentando giorno per giorno e devo dire che c'è la grande disponibilità della popolazione ad accogliere questa povera gente, povera gente che scappa dalla propria terra appunto per raggiungere un po' per la sicurezza e per la propria serenità familiare. Un'accoglienza regolamentata con criteri precisi e gestita attraverso aperture straordinarie. I cittadini ucraini godono dell'esenzione del visto per turismo, quindi tutti coloro che sono in possesso di un passaporto biometrico e hanno il timbro di ingresso nell'area Schengen possono permanere liberamente tutta l'area per 90 giorni ogni 180 giorni. Quindi sostanzialmente sono regolari sul territorio nazionale, tuttavia la comunità europea ha previsto per loro nel caso in cui vogliono permanere più di 90 giorni e il conflitto non vada verso una risoluzione, la possibilità di un rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo che è destinato proprio ai cittadini che fuggono dalla guerra e che quindi erano residenti in Ucraina prima del 24 febbraio del 2022, inizio del conflitto. Il governo sta per emanare il decreto che recepisce la direttiva della comunità europea e che regolerà anche tutta la platea di cittadini ucraini che potranno avere accesso a questa tipologia di permesso. Noi come Ufficio Immigrazione per far fronte a questa emergenza abbiamo predisposto delle aperture straordinarie dedicate solo ai cittadini ucraini sia per lo sportello di Pesaro che aprirà eccezionalmente il martedì e il giovedì promeriggio e il sabato mattina solo per gli ucraini, e lo sportello di Fano presso il commissariato di Fano che farà un'apertura straordinaria di lunedì e aumenterà gli appuntamenti negli altri giorni dedicati martedì, mercoledì e venerdì. E il commissariato di Urbino che aumenterà gli appuntamenti quotidiani aggiungendo alcuni appuntamenti giornalieri per far fronte all'emergenza ucraina. Gestione dell'accoglienza ma anche gestione attenta dei protocolli sanitari. Sostanzialmente tutti i cittadini ucraini che entrano sul territorio nazionale entro 48 ore dall'ingresso devono fare un tampone per la verifica della presenza del Covid. Dopodiché devono fare 5 giorni di autosorveglianza. Per loro che hanno un basso tasso di vaccinalizzazione per il Covid ma anche per altri vaccini, il Governo e il Ministero della Sanità hanno predisposto un percorso particolare per cui nel momento in cui approcciano agli UB dedicati per i tamponi, c'è tutto un percorso di presa in carico e di gestione del cittadino che così inizia un percorso all'interno del territorio nazionale per poter poi mettersi in regola con tutte quelle che sono le nostre previsioni sanitarie, normative e tutti gli aspetti che ne conseguono. Alle regole per accedere sul territorio ci sono poi le procedure precise per ospitare i profughi. L'unico obbligo che ha un cittadino che accoglie un extracomunitario in genere e quindi anche un cittadino ucraino è quello di presentare la comunicazione di ospitalità. Comunicazione di ospitalità che va presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza e quindi a Pesaro è il questore, alla questura di Pesaro da noi all'ufficio immigrazione, a Fano è il dirigente del commissariato di Fano e quindi va presentato al commissariato di Fano per Urbino è il dirigente del commissariato di Urbino e quindi al commissariato di Urbino per tutti gli altri comuni della provincia è il sindaco del rispettivo comune e quindi va presentato al comune e in genere sono le polizie locali che si interessano di questa ricezione.